Temperatura globale ben al di sopra della media lo scorso ottobre. Precipitazioni intense hanno colpito Messico e Stati Uniti. Lo stesso vale per il sud dell'Europa, contrariamente al resto del continente. L'uragano Leslie da ovest ha raggiunto il Portogallo, mentre sulla Spagna si sono abbattute violente tempeste seguite da alluvioni. Piogge torrenziali e alluvioni anche in diverse regioni italiane hanno fatto pesanti danni e vittime. Negli ultimi 12 mesi le temperature sono state particolarmente alte sull'Artico e in generale al di sopra della media. L'Accordo di Parigi punta a mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Grazie a tutti.